Bene, buonasera a tutti e benvenuti al MacRyans Music Fest. Ci siete? Ci siete? Molto bene. E allora benvenuti anche a voi, pubblico da casa di Rock in Town. Dunque, per introdurre questa nuova manifestazione vorrei qua sul palco il mio socio e regista di Rock in Town, Gigi Morello. Ciao Gigi. Ciao Frenchi, ciao pubblico del MacRyans. Bene, allora una nuova avventura, un nuovo festival, che dici? Sono contento di vedere che a Torino la realtà musicale è sempre più ampia e ci sono persone che si danno veramente da fare, oltre ai gruppi, i locali che investono nella musica vera che viene diffusa a livello televisivo. Bravi. Ecco, allora io vorrei un grandissimo applauso alla location che ospita questo Music Fest, che è appunto il MacRyans di Moncaglieri. Un applauso grandissimo a loro. Magari dopo li chiamiamo sul palco, se non si... Sì, 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 chiamiamo Leila, Olivio, insomma tutti e due, li chiamiamo qua. C'è anche Carmine, parlavo con Carmine prima, ha detto che è uno dei più vecchi pizzaioli che esistono in Piemonte, sono 48 anni che lui fa la pizza. Un applauso a Carmine. Bravo Carmine, altri 48 anni di pizza, allora. Va bene, allora grazie Gigi, buon lavoro e vorrei qua sul palco la prima band che si esibirà. Loro sono in fase 39, un applauso, grazie. Intanto cominciamo a presentare tutti. Tu sei the singer, il cantante e sei Valerio. Valerio, sì, ciao. Valerio è? Valerio Urti, ciao. Ok, Valerio Urti, mi presenti i tuoi compagni di viaggio? Tengo io. Tieni tu, i miei amichetti sono qua a destra Mario Coppola al basso. Poi abbiamo Alessandro Guida alle tastiere. Il fisicato Gianluca Esposito alla batteria. È il nuovo entrato, la New Entry che ci accompagnerà nel nuovo percorso, Alessandro Crupi. Ok, allora fase 39, fase 39 è un progetto che nasce? Nasce nel 2015, abbiamo fatto un disco prodotto dai Velvet, stiamo andando un po' in giro per l'Italia a promuoverlo e ogni volta che abbiamo l'occasione e l'onore di essere invitati dagli amici di Rock in Town noi siamo sempre in prima fila. Bene, grazie. Ma dobbiamo anche dire che voi siete anche i vincitori del Torino Gen Contest 2016, giusto? Wow. Verissimo. Bene. E devo dire un'altra cosa, che voi avete anche moltissime fans, tra l'altro, forse non lo sapete, ma anche le mie figlie tutta l'estate che noi ascoltiamo sempre solo, elettroscopia. È vero, è vero, è verissimo. E quindi, insomma, so che dopo mi darete il cd autografato, quindi grazie, da parte di Norma Linda. Benissimo, progetti imminenti? Allora, adesso concludiamo un po' di date da qui a fine anno, Torino domenica, poi ci sposteremo a Genova, probabilmente anche in Emilia, e col nuovo anno speriamo, e anzi, si farà il nuovo disco. Bene, un applauso per un nuovo progetto. E quindi, com'è Torino? Torino? Ma? Torino? Magica! E allora per McRyan's Music Fest, in fase 39! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il prossimo scenario che vivrò sarà difficile Sarà guardarmi dentro con l'elettroscopia Alza-mi, guardami, prestimi, e giudicami come vuoi tu Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!